Si avvia verso la conclusione la dodicesima edizione del settembre culturale ad Agropoli che ha preso il via lo scorso 31 agosto. Sono due gli appuntamenti che mancano prima che cali il sipario per quest'anno sulla rassegna letteraria che ha fatto registrare un successo di pubblico dopo l'altro e che si attesta tra le più importanti a livello regionale e nazionale. La prima data è quella di sabato 12 ottobre alle ore 19 quando presso il castello Angioino Aragonese l'autore romano Roberto Emanuelli presenterà il suo ultimo libro Tu ma per sempre interverrà la pianista Milena Vertucci. Chiusura in bellezza sabato 26 ottobre alle ore 19 con la scrittrice poetessa Lucrezia Lerro che presenterà al pubblico più lontano di così.